Musica Allora, sono Lìa Salvatore, sono il direttore commerciale della BCC del Catanzarese Siamo qui oggi a Soveria a partecipare, a promuovere questo evento sull'Ecosisma Bonus una tematica di cui si sta in questi mesi sentendo parlare in maniera importante verso la quale la banca sta dedicando importanti risorse per costruire degli strumenti che lo possono agevolare perché come si sa c'è una novità importante che è quella della possibilità di cedere questo credito fiscale anche all'istituto finanziario, che è una novità assoluta I danni economici derivanti dalla crisi emergenziale in atto sono sotto gli occhi di tutti e gli effetti veri si vivranno da qui a breve e quindi attraverso questo strumento la banca vuole partecipare a una fase di ripresa e di controshock a questo shock economico che ahimè questa problematica ci ha portato a vivere Stiamo cercando di portare a termine una parte diretta di acquisizione di questi crediti e stiamo creando attraverso dei tauli tecnici con il nostro gruppo bancario CREA quanti più strumenti possibili per dare fluidità finanziaria a questo strumento che in questa fase è assolutamente innovativo e abbastanza complesso da poi da mettere in piedi Siamo a disposizione attraverso le nostre filiali ad accogliere qualsiasi tipo di dubbio, chiarimento sia dalla parte dell'impresa sia dalla parte del privato cittadino che vuole intraprendere questa importante strada e che va a riqualificare tutto il nostro patrimonio immobiliare e sappiamo quanto importante questa cosa è per noi Grazie a tutti